che bel passo mi raccomando quando dico avanzare tenete la fine pronti? e devi avanzare e stop da me avanzare e stop e poi c'è il dama che si può fare da ogni conto è l'afficinare davvero indietro e stop da me indietro e stop la stessa tavola da qua a te da qua e la stessa tavola adesso da me uno da me uno cavallieri avanzare e stop da me avanzare e stop da me inchino cavallieri inchino ah grande adesso voglio le dame e i cavallieri sotto braccio e cian grande al contrario al contrario ciao 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 ciao